Però prima di partire con il video andiamo a salutare subito nell'angolo dei saluti tutti quelli che sono entrati a far parte del team Tecnoid usando il codice creatore Tecnoid96 Saluto Dni Ferri, Marco Bai, Frenzy Gatto, Gianni The Monster, Pyrox06, Davide Zobel, Ratto Bello, Raffaele D'Angelo, Leo Brown01, Lollo Serra, Santo Luca, Il Dogue Fatto E basta per in me benvenuti in questo video come sempre sono Tecnoid e siamo tornati con un nuovissimo minigioco ragazzi con un sacco di sub Questi ragazzi sono i sub che si sono abbonati diciamo per ultimi oppure sono quelli che non hanno mai fatto un minigioco con me Perciò mi raccomando se anche voi volete fare un minigioco comparire su YouTube non dovrete fare altro che seguirmi nel tubo viola Ed essere abbonati e avrete di diritto la precedenza su tutti gli altri che invece hanno già fatto video e diciamo minigiochi con me Salutate tutti quanti Bella regà ci siamo ci siamo oggi siamo tutti qua su Fortnite perché come vedete ho la skin horror per un semplice motivo Oggi ragazzi andremo a giocare ufficialmente a Michael Myers Grazie mille per l'abbonamento Io sarò Michael Myers quello che dovranno fare loro è semplicemente nascondersi Ragazzi siete pronti a morire? Sto arrivando Sentite l'ansia? Le sghere Martello maledetto Sento già uno qua sulla casa E' inutile che fai il furbetto Uh sento anche gente che balla Hai capito qua che fanno i fenomeni? Adesso arrivo a pigliarvi ragazzi vi giuro vi spacco le ossa Voglio sentire le vostre ossa che si sbriciolano sotto al mio martellone Ok ho già capito Da qua sarà meglio uscire Voi qua Voi qua Voi qua Guardate 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 come stanno provando ad aiutarti ma mi dispiace Adesso il mio martellone ti giuro che mo' ti piglia Mi spacca le ossa se no spacco lui No 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 venire con lui Ah brutti infani stanno usando tutte quelle fumogene che hanno Oddio 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 Ma c'è gente qua sulla casa come Oh guarda quello guarda quello Volete fare i fenomeni là bene? Ah ma è qui a morire Va bravo? Bam Bam Ehi Facevano i fenomeni poi sono arrivato a dare il perdono Mamma mia grazie mille Bismarck per i mitz Qua sulla casetta non c'è più nessuno Ok era solamente una poltrona Ho visto una poltrona e pensavo fosse un tipo Secondo me qua c'è qualcuno in mezzo alla nebbia Perché Io vedo qualcuno Eccolo uno Eccolo uno che si è messo a correre adesso Matis corri corri Se tu sei furbo Guardate quell'altro che fa il fenomeno Comunque se siete furbi fate prima a portarmi dai vostri amici ragazzi Fate prima a portarmi da loro Guarda che Ho puscio come un drago a quello Matis furbo portami dai tuoi amici Fidati E' la cosa migliore che puoi fare Perché tanto se no l'unica cosa che farei è morire Tanto tu puoi vedere Il nome di tutti loro vero? Eccoli dentro al fieno Facevi il fenomeno? Facevi il fenomeno? E qua facevi il fenomeno? E una guarda che te l'ho tolto il cespuglio Prossimo giro sei morto Prossima curva che fai male sei morto Bam! Tu Kratos Fai tanto il fenomeno sei morto Kratos Sei morto Ma sono tutti su quella casa Regà come si fa a salire? Eh non si dice E mi dite come si fa a salire là Risparmio chi me lo dirà? E' solo una scala Sono due scale Vuoi fare un patto con Michael Meyer? Chi di voi scende adesso qui E mi guida Non lo ammazzo Parola di Michael Meyer Ok vai Mostrami la strada Vai Ha fatto benissimo A fare il patto con Michael Meyer Dov'è? E' certo che ci guadagna Perché lo lascio vivo Ok perfetto Grazie mille Volevi fare l'infame No 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 Hai visto che non t'ho sparato? Che non t'ho E' qua via Io perdono E' qua Inutile che fai i trick Inutile che fai i trick Che tanto guarda che sei morto Hai sentito il martellone? Ti giuro ti voglio fracassare con quel tuo cranietto Te lo fracasso il cranio Te lo fracasso il cranio Venite a pigliare o perdono Bubu sentite Secondo me fa più parla Bubu 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 Mamma mia sono attaccato a lui raga Sono attaccato a lui Mamma mia che martellate che mi stavo per dare E' entrato nella casa No te che taglio il perdono Non puoi così Eh raga Voi di bloccatelo Aspettalo 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 Che c'è un altro Portalo Portalo qua da me Portalo qua da me Raga Se riesce qualcuno di voi A guidarmi Da qualcuno Non lo uccido Parola di Michael Meyer Vai vai Andiamo andiamo Dov'è dov'è Vai vai Dov'è dov'è Vai raga Questo qua è il servo del male Sta scappando Sta scappando Dov'è 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 Bloccamelo Chi scende a farmi vedere dove sono gli altri Non lo killo Sono tutte e due nascosti 40 eh Camiseta L'infame Guardate dove stanno nascosti E gamma Guardate che non li trovo più Ma dove stanno? Siamo in 7 ancora Come in 7 ancora? Impossibile in 7 Oh Eh sì Come in 7? Eh beh è buggato forse Ah il buggato Oh ma quante persone ci sono qui? E qua morire Oh Ma il bravo Morto Roberto Vieni 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 a farmelo vedere Oh zitti ragazzi Oh no C'è uno che sta in là Eh amore mio Oh non capisce? Amore mio bellino No No Non fare i trick Non fare i trick Devi morire da bravo Boh Mamma mia che pelo che mi ha fatto Portami da uno Portami da uno Fatti furbo Mamma mia che pelo 7 6 Non è già No Vai È morto lui Vai Allora ragazzi Dato che non ho capito Quante persone sono rimaste Venite tutti al centro Per favore Tutti al centro sulla strada Perché così vi conto Ok Uno è qui Ok Due è qui Arrivando Tre è qui Questi sono gli ultimi sopravvissuti Sono in tre Tre due uno Via Allora ecco quarto Il quarto è là Beh la vita abbiamo perdono Il quarto è morto Dov'è Il quarto è mortissimo Vieni qua adesso E l'altro è mortissimo Che bello fare l'infame Mi piace Michael Mayer Sono rimasti in due Oh sei ucciso Quindi se uccidi lui Ho vinto io Sì Perciò fai il primo A portarmi da lui Fatti furbo Scendi giù E portami da lui Ah io posso dirti dov'è Sì 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 Guidami Tu devi salvare La tua di pelle Dov'è No 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 È una casa È una casa Dall'altra parte Non c'è l'altra Questa Eccolo L'ho visto Bravissimo Ammazzalo Ammazzalo Anche tu fai il primo A portarmi da lui Sta scappando Sta scappando Sì 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 Sta scappando Sta venendo verso di te Sto due Sta venendo verso di te Vabbè lo sei il coglione Sì sì In verità è furbo Eccoli Chi sarà il primo a morire? Chi sarà il primo a crepare? Dun da dun Dun da dun Dun da dun Sta arrivando Mamma mia ragazzi Mi sono proprio dietro attaccato Se si gira uno di voi E' morto proprio Ciao Ho vinto Ho vinto Complimenti Vieni al centro Vieni al centro Hai vinto Complimenti davvero ragazzi Ecco qua Il vincitore di questo minigioco Nome? Parutino Zenix Zenix Bella per Zenix Complimenti E direi che ragazzi Che siamo arrivati Quando ho vinto questo minigioco Mi raccomando ragazzi Spoliciate un casino Perché se arriviamo A 5000 like Porteremo di nuovo Questo minigioco Comunque tu che mi fai loser Non mi piace Piati anche a te il perdono Detto ciao ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 Ciao